Benvenuti, sono Giovanni Bortoluzzi ed insegno canto armonico. Il mio metodo didattico si basa sulle quattro L. Le quattro L sono le importanti tappe del percorso attraverso cui il canto armonico porta a coloro che lo praticano. Seguendo queste quattro tappe è possibile orientarsi agevolmente nello studio delle possibilità espressive che il canto armonico offre. L0 è la ricerca dei timbri vocali che permettono di udire distintamente il suono armonico sopra alla nota fondamentale. I timbri principali si dividono in tecniche a singola cavità e doppia cavità. La principale differenza tra singola e doppia cavità sta nella posizione della lingua che nel secondo caso si appoggia sul palato. in entrambi i casi si può modificare il timbro utilizzando le cavità nasali. o aggiungendo la vibrazione delle false corde vocali. L1 è l'apprendimento delle posizioni del tratto vocale che permettono di amplificare ogni armonico presente nella voce. Tramite l'esercizio sia muscolare che di percezione uditiva si impara ad emettere gli armonici dal più grave al più acuto e dal più acuto al più grave in modo consecutivo. L2 è lo studio delle melodie che porta a saper riconoscere e selezionare gli armonici desiderati, saltando con precisione da un armonico all'altro. con le band forte. con le band Con L3 si sviluppa la capacità di gestire sia il cambio di fondamentale che il cambio degli armonici. Per iniziare si può individuare un armonico in comune a più fondamentali. Oppure si può scegliere un pattern da riproporre con fondamentali diverse. E' tutto. Per informazioni riguardo i miei corsi o per prenotare una lezione via Skype, contattatemi all'indirizzo qui sotto. Grazie, ciao.